Ieri pomeriggio nel corso di una diretta Facebook il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza avrebbe detto di avere amici a pranzo a Pasqua ovvero quest'oggi. La cosa ha scatenato una bufera di polemiche anche durante la diretta straordinaria di Telequattro ieri sera tra le 20 e le 21. Noi questa mattina l'abbiamo contattato per andare a capire quello che è successo e per poter permettere anche al primo cittadino di replicare e di precisare. Andiamo a suonare il campanello. Eccoci qua eccoci qua ci ha aperto il cancello e adesso andiamo andiamo a sentire il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza rispetto a quanto a quanto accaduto ieri. È stato riportato che lei ha detto a Pasqua o gli amici a casa spieghiamo. Ma vedi ogni giorno mi arriva qua la polizia perché devo firmare i TSO mi arriva il mio capo di gabinetto perché mi porta le corre. Alla mattina vado giù a lavorare uno ti dice cosa fai per Pasqua e la battuta travisata poi ma da questo siamo arrivati ho detto però una bottiglia con gli amici non so cosa ho detto. Naturalmente uno dell'opposizione ha fatto il comunicato due pagine sul piccolo cioè non avete veramente l'informazione non ha nulla cosa fare. Due pagine sul piccolo quando sono due mesi che non vedo i miei suoceri che abitano a Cervignano questa mia moglie sarebbe la figlia. Non li vediamo da due mesi e abbiamo fatto questo caos. Una dice interrogazioni parlamentari ma dai ma siamo veramente una miseria. Una miseria sono mesi che stiamo a casa cioè che alla mattina vado giù nessuno si preoccupa dei cantieri dei buoni che l'abbiamo lavorato fino alle due di notte per risolvere questi problemi. Quello non si comunica e no non bisogna comunicare bisogna comunicare soltamente che il sindaco ha detto per Pasqua brinderò con gli amici. Cos'è oggi? Eccoci qua. Cos'è oggi? Pasqua? Domani è Pasquetta? Guarda Marco veramente un'informazione non so o non hanno cosa scrivere probabilmente non hanno cosa scrivere ma strano perché abbiamo tanti dati anche il miglioramento per fortuna sento molti dati miglioramenti. Intendevi gli amici del Bosco? Ricordiamo una cosa da quello che credo di aver capito è stata una battuta infelice ma legata anche al fatto che il sindaco diciamo così riceve giornalmente delle persone per questioni operative e possiamo dire che è stata una battuta infelice che ovviamente l'idea è il contrario. Ho capito ma sto dicendo signori miei c'è un decreto legge sono il primo che ho applicato tutto sono il primo che sono 18 anni che faccio il sindaco e non ho mai avuto una condanna neanche per abuso dati d'ufficio figurarsi se non applico le leggi però ripeto anche le opposizioni. Vedi la differenza fra me io ho salutato la Danieli che ha avuto uscita infelice e gli ho dato la mia solidarietà dall'altra parte invece immediatamente all'attacco del sindaco che ha detto che trascorrerà o sai ho detto una cosa veramente molto grave che trascorrerò la Pasqua. Uno ti chiede cosa fai dopo domani Marco così sai quelle cose buttate là in una diretta una guardia una follia un bel regalo di Pasqua ma però gli dico una cosa mi ricorderò di questa cosa. Il sindaco così come il presidente della regione non sono completamente diciamo così isolati no lavorano quotidianamente quindi hanno delle persone che magari fanno prima a venire qui a far firmare una carta piuttosto che farlo come un altro. Un attimo che passo spieghiamo i TSO il trattamento sanitario ti spiego ti spiego Marco i trattamenti sanitari obbligatori li può firmare solo il sindaco se assente il sindaco lo firma il vice sindaco o un assessore. Allora sto dicendo mi telefonano se sono una volta quando ero al ristorante mi cercavano al ristorante se ero via mi cercavano adesso vengono a casa ma per diti è normale. Sì esatto poi alla mattina vengo giù alla sera qualche volta al pomeriggio che invece prima eravamo tutto il giorno in ufficio al pomeriggio che non siamo magari bisogna firmare una cosa urgente perché qualche volta scade domani una domanda. Allora magari ti mandano su l'autista eccetera o vado giù io addirittura o ci incrociamo a metà strada ma sto dicendo in questo mese in questi mesi abbiamo lavorato come pazzi per cercare di uscire all'incontrario di quello che pensa qualcuno. Certo non ci facciamo vedere in giro e poi io non sono lì ogni giorno a dirvi uno in meno uno in più due in meno. Io sono una persona concreta che lavora sul concreto per la mia città.